Dieci giorni per preparare la delicata gara casalinga con la Sampdoria. Per questo i Biancazzurri sono tornati al lavoro con l'obiettivo di dimenticare il K.O. con il Chievo e concentrarsi sulla sfida con i blucerchiati di Marco Giampaolo. In quest'ora il tecnico Massimo Oddo sta lavorando anche da psicologo per ricaricare il morale dei suoi ragazzi, apparsi comunque determinati a ripartire dopo il periodo opaco. Il tecnico pescarese può tirare un sospiro di sollievo perché se è vero che dovrà rinunciare a Reimanai alle prese con un infortunio alla caviglia, è altrettanto vero che sono clinicamente guariti Baybeck e Pepe che saranno dunque a disposizione per la gara che si giocherà tra dieci giorni. In questo periodo Oddo inizierà a focalizzare l'attenzione anche su un possibile e probabile cambio di modulo anche se limitato da alcune partite. Cambierà anche qualche protagonista, proprio Baybeck e Pepe potrebbero rappresentare le novità nell'undici che scenderà in campo con la Sampdoria. Potrebbe essere concesso un turno di riposo a Memusciai con il rientro di Cristante rimasto fuori a Genova e nella gara a Casalinga con il Chievo. Anche Valerio Verre, apparso un po' in ombra, rischia il posto. Intanto la squadra proseguirà gli allenamenti fino a sabato quando si disputerà all'Adriatico una gara amichevole con la primavera di Fabrizio Camarata. Subito dopo i giocatori parteciperanno all'inaugurazione del nuovo store ufficiale Biancazzurro.